Secondo me non è alto abbastanza Anche secondo me Che ci fai lassù? Adrenalina Mi sono appena disintossicata, è la cosa più simile alla droga In un centro di recupero? Già Accidenti Sì, non è stato un soggiorno molto piacevole, però C'era anche quello di American Pie a curarsi Davvero? Già Senti, perché ti comporti sempre da stronzo? Ti piace far incazzare le persone? Modarsi Tu te ne sbatti se piaci non piaci agli altri Non proprio Accidenti Dici, non saprei Ehi Ehi Facciamo un gioco Un gioco? Quanti anni hai? 8 E tu quanti? 78 Obbligo verità Dai andiamo Obbligo verità Obbligo Davvero Verità Sì Sì Ok Allora C'è un tizio pelato che sta passando qua sotto Voglio che tu gli spugli in testa No Sì Hai scelto Verità No Verità No No 3 2 1 Soddisfatto? Sì Obbligo verità Verità Come sei noioso La verità non è maigliosa Ti va di fare sesso con me? No Sul serio Perché no? È la seconda domanda È la seconda parte Perché Ho paura che non mi venga tutto Beh non sembrava essere un problema sul palcoscenico Perché non c'è problema per me sul palcoscenico Voglio farti un'altra domanda Hai appena fatto un'altra domanda Ancora una Spara Se non avessi paura Cosa vorresti farmi? Ti togliere gli occhi dalla testa Simpatico E di mettere al posto dei miei Così mi guarda e torna E vedrai queste strade Come quando le vedevo a tutta età Buonanotte Grazie a tutti